È il giorno dell'atteso derby di Siena tra il Siena e l'Arezzo. Di Donato cambia ancora, manda in attacco a sorpresa Mesina, Farcoppia con Cutolo in mezzo, inserito Benucci con tassi Corrado, rilanciato dunque come esterno alto con Foglia, Rolando, difesa 3 Luciani Cercarelli, Baldan davanti a Pissardo nel Siena. Oltre al grande ex dal canto in panchina c'è Serrotti in mezzo al campo e anche Polidori, dunque una partita con tante motivazioni. Ci ha provato subito Migliorelli con una conclusione che però è finita alta. Insiste il Siena, la palla da Rigoni, poi Gerli, libera Serrotti, Polidori, 1-2, Serrotti destro, Pissardo, parata non difficile. Eccolo qua, Serrotti, uno dei grandi ex davvero ottimo lo scorso campionato. Siene in avanti con Baroni, poi Arrigoni. Siamo qui già nel secondo tempo, non accade molto, infatti la prima frazione, Pissardo anche qui non ha problemi a bloccare. Ancora il Siena smarcato Arrigoni, parte il cross, Polidori prova a mirare, la palla va sul fondo. 500 tifosi al seguito dell'Arezzo. Triplo cambio per Di Donato, esce Benucci, entra Baldan, esce Misina, entra Cheddira, esce Corrado ed entra Volpicelli. Attenzione qui ad Ambrosio, commette fallo secondo l'arbitro su Cheddira. Arriva il calcio di punizione in favore dell'Arezzo. L'arbitro Carella di Bari ha dato il via. Sta per battere Luciani, poi ci ripensa. Foglia rimane lì e batte a sorpresa. Padone in mezzo, c'è Baldan che stacca e porta in vantaggio l'Arezzo al Franchi di Siena. Baldan è entrato dunque nella ripresa, esulta perché è un gol pesantissimo per l'Arezzo che ha bisogno di fiducia, ecco la gioia da parte dei tantissimi tifosi a Maranto. Foglia, palla dentro, Baldan illude tutte le marcature e mette dentro. Dunque il Siena ancora una volta sotto, ha sempre vinto fuori il Siena ma in casa mai vinto. Attenzione, bella in mezzo, Cesarini, Guidone che è entrato nel secondo tempo anche lui. C'è però una bandierina alzata, gol che non vale. Nel Siena sono entrati anche Setola e Dauria oltre a Guidone. Rivediamo qui che cosa è successo con Dauria che mette dentro. C'è il tentativo di Cesarini e Guidone, posizione sospetta. Cutola all'indietro, Rolando, sinistro secco, Confente respinge e poi Barone che libera l'area di rigore. Siena che cerca di buttare i palloni in avanti, colpo di testa di Baldan. Attenzione a Gerli, brutta entrata di Rolando. Attenzione, cartellino, l'arbitro, non si sa che cosa tirerà fuori. È un rosso. Rosso per Rolando. L'Arezzo rimane in 10. Siena che fa fatica a attaccare. Qui però L'Arezzo concede la superità numerica. Davvero un'entrata censurabile questa di Rolando. C'è un giallo anche per Didonato che in panchina è molto agitato e desideroso di regalare ai tifosi di L'Arezzo la gioia nel derby. C'è una punizione per il limite per il Siena. L'arbitro sente ancora qualcosa. C'è un altro giallo e quindi viene espulso anche Didonato. Siamo ormai nei minuti finali. Sei minuti recupero la gabbia di Didonato. L'Arezzo è in vantaggio ma c'è da soffrire in 10 per L'Arezzo. Calcio di punizione dal limite pericoloso per Cesarini. Palla che sfila sul fondo di pochissimo. Insiste il Siena. Bagoni lungo lancio. Palla che carambola nella zona di Dauria. Rincorso da Ceccarelli. Dauria cross al volo. C'è Guidone al 96esimo. Guidone trova il pari. Proprio l'attaccante che era stato cercato in estate da L'Arezzo. Regala in estremis il pari al Siena. Proprio allo scadere qui. Ceccarelli cross e Nolan completamente bruciato dallo stacco di Guidone. E finisce dunque 1-1 nel derby di Arezzo. Di qualche mese fa il Siena rimontò tre gol e segnò lo scadere con Arrigoni. Questa volta è Guidone a dare l'amarezza a un Arezzo gagliardo. che soprattutto nella ripresa sembrava in controllo della situazione. Esce da Siena con un punto.